Oggi parliamo di un brand di amplificatori che tutti noi conosciamo ma ho una grossa sorpresa per voi sigla buongiorno amici e bentornati qui siamo al bm blues ed io sono paolino bene oggi vi voglio parlare di un brand di amplificatori super conosciuto ma prima di iniziare a parlare di loro come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale mettere un bel pollice alto a questo video e non dimenticate la campanellina che è molto importante tutta questa procedura lo sapete già a voi non costa niente ma dà la possibilità a questo canale di crescere ancora di più e portarvi qui in questo studio altra strumentazione da farvi sentire e incuriosirvi e aumentare un po' la gas a proposito di gas parliamo proprio di loro sono i katana i boss katana amplificatori veramente fantastici che hanno dei suoni meravigliosi perché non dimentichiamoci che boss è il leader di quello che può essere tutto ciò che è effettistica a livello pedalini ma da quando hanno inventato costruito e messo in vendita questi amplificatori katana diciamo che sono amplificatori che accontentano tutti i chitarristi perché si ha la possibilità di suonare qualsiasi tipo di genere musicale con questi bei macchinari innanzitutto non ho portato qui in studio gli amplificatori da recensire da farvi sentire perché mi è sembrato un po' inutile visto che su youtube praticamente dei katana si è detto tutto se volete sentire i suoni del katana bastate che andate cercare veramente trovate di tutto e di più oggi ho voluto portare insieme a andrea di fireball strumenti musicali a tradate abbiamo deciso così ieri che è scattata la scintilla abbiamo detto non arriva l'estate qua in lombardia buttiamo un'offerta pazzesca per l'estate sperando che arrivi insomma questo bel sole da scaldarci e quindi abbiamo detto facciamolo super offerta sui katana 50 watt 100 watt e il bus quello da 210 15 per cento di sconto spedizione compresa quindi voi per avere questo sconto andate sul sito qua in descrizione poi vi metto tutto quello che serve per andare ad acquistare l'amplificatore e il codice sconto è sempre solito questo bird blues in maiuscolo staccato è bird blues mettete questo codice e voi vi portate a casa l'amplificatore katana scegliete voi il watt 50 100 oppure se siete dei bassisti c'è il 210 bass che è veramente ottimo come amplificatore con un 15 per cento di sconto sperando che l'estate arrivi vi ho già detto che sono degli amplificatori fantastici hanno un suono eccezionale li usano praticamente in tantissimi e a parer mio il katana è veramente un amplificatore a 360 gradi ci fa divertire c'ha dentro dei suoni pazzeschi c'ha dentro praticamente degli effetti della boss con dei suoni molto reali veramente molto reali insomma se volete un amplificatore da tenervi in studio o in casa per divertirvi il katana è senza ombra di dubbio il miglior amplificatore di tutti i tempi credo che pochissimi mi possano smentire ma nei commenti scrivete appunto un vostro parere sul katana non credo ci siano parecchi che parlino male del katana certo se vogliamo suonare microfonando l'amplificatore suonando totalmente analogico allora parliamo di amplificatori valvolari ma per quanto riguarda l'amplificatore perfetto io credo che il katana sia uno dei migliori in assoluto la boss ha fatto degli amplificatori veramente fantastici io ne ho avuti diversi ha avuto sia 50 watt e sia il 100 watt e mi hanno fatto divertire tantissimo veramente tantissimo quindi ricapitolando se volete un katana nuovo completamente nuovo ok ne abbiamo in magazzino un po fino esaurimento scorte da adesso questo momento state guardando il video da oggi giovedì fino a domenica avete il 15 per cento di sconto mettendo il codice sconto bird blues scritto così non fatevi perdere questa occasione andrea ci ha messo del suo io ve lo propongo voi se volete andate sul sito e comprate l'amplificatore amici non vi rubo altro tempo oggi abbiamo voluto fare una cosa così veloce flash diciamo che la fiera di padova ci ha dato questa scossa bene vi aspetto giovedì prossimo che ho una cosa fantastica da farvi vedere veramente bella una chitarra ma molto bella amici lunga vita al blues buon pomeriggio